Ancora incidenti sul lavoro nella nostra regione. Nel primo, vittima un operaio di 57 anni, originario di Favara, in Sicilia, dipendente da un'azienda della provincia di Napoli, ma con un magazzino a Ponsacco. L'uomo ha perso la vita mentre stava lavorando alla ripulitura di un oleodotto che attraversa la campagna di San Mignate. È rimasto incastrato in una macchina che tritura in legno. Pare che il comando della cippatrice fosse a distanza. Nonostante i tentativi di rianimarlo del 118, era presente anche l'elio di soccorso per il trasporto più veloce in ospedale, l'operaio è morto sul posto per la gravità delle ferite riportate. E un altro grave infortunio è avvenuto a Scandicci, dove un operaio di 51 anni è rimasto ferito in una cartotecnica ed è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Careggi. Il macchinario è stato posto sotto sequestro. Una quarantina agli infortuni mortali sul lavoro in Toscana dall'inizio del 2019, il leggero caro rispetto allo scorso anno, mentre non diminuiscono le denunce di incidenti professionali. Solo a fine agosto erano quasi 33.000. Una conta che viene continuamente aggiornata, due casi, uno grave, uno mortale, solo nelle ultime ore. Ed è una triste vigilia in vista di domenica, 13 ottobre, giornata per le vittime degli incidenti sul lavoro.